Benvenuta e benvenuta in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo Un Corso in Miracoli. Iniziamo questa lezione 291 dopo aver ascoltato, probabilmente per la prima volta, l'ottavo tema che parla di cos'è il mondo reale. Se non l'hai fatto, lasciati attraversare da quelle parole e ricorda ora che essere chi sei così come sei, senza dimostrazione, senza limiti, senza giudizio e senza paura, è pura benedizione. Iniziamo. Lezione 291 Questo è un giorno di quiete e di pace. La visione di Cristo oggi guarda attraverso di me. La sua visione mi mostra tutte le cose perdonate ed in pace e offre questa stessa visione al mondo. Ed io accetto questa visione nel suo nome, sia per me stesso che per il mondo. Quale bellezza vediamo oggi, quale santità vediamo intorno a noi e ci viene dato di riconoscere che è una santità che condividiamo, è la santità di Dio stesso. In questo giorno la mia mente è quieta per ricevere i pensieri che tu mi offri ed io accetto ciò che viene da te invece che da me stesso. Io non conosco la via che conduce a te, ma tu sei totalmente certo. Padre guida tuo figlio lungo il quieto sentiero che conduce a te. Che il mio perdono sia completo e che mi ritorni il ricordo di te. Che il mio perdono sia completo, che io possa ricordare oggi, accorgermi, accettare che ogni mio vissuto è frutto del mio pensiero sostenuto, che ha creato la realtà in cui penso di vivere e che penso sia unica. Accetto questo, lascio le redini ed ecco che posso sentire finalmente la voce della vita.